ciao a tutti sono vincenzo nibari e vi mando questo video da un posto veramente molto molto bello mi trovo in questo momento a capitano fuori dall'italia fuori dall'europa per degli impegni tra virgolette sportivi di lavoro però il mio messaggio è per teresa che sta concludendo la sua tesi di laurea quindi a breve riceverà questa tesi per l'istituto di criminologia ha toccato un tema molto interessante che è quello proprio sul tema del doping che riguarda assolutamente lo sport lo sport è vita bisogna fare sport in modo sano e quindi lo svolgimento e la regolarità delle competizioni nel modo migliore sicuramente è una cosa molto giusta che è un principio d'orgoglio per tutti quanti di svolgere il meglio nella regolarità assoluta quindi io spero che teresa possa raggiungere i migliori voti per questa sua tesi e sono veramente molto contento di aver contribuito in qualche modo a dargli un piccolo grande aiuto e niente arrivo ancora a questo saluto mi dispiace non essere con voi sicuramente poteva essere una bellissima giornata e grazie ancora ciao